un tributo che ha dato la Roma Tuiti fino a questo momento di stagione quattunesima presenza, tra il tunesimo alla titolare oggi quattro ad ora, anche quello pesantissimo di Madrid, della grande illusione GOOOOOL con Alessandro sei Alessandro, cazzo, andiamo sulla dormita di Versilia del Crotone e sull'intuizione del 12 bianco nero che si è andato in antissimo bello, eh, bello, girando da una parte all'altra bellissimo tra due Fiorentina ma tu guarda che cazzo di gol ma non è possibile ma tu guarda che gol che ha fatto questo qua ma allucinare a due Fiorentina si, mi fa finisce 1 a 1 tra Crotone e Juve ovviamente, non può essere entusiasta invocca rapidamente gli sfogliatori mentre Zeghi è un po'